In attesa di essere premiati alla cerimonia di Castiglion Fiorentino, i grandi dello sport, ambasciatori del Fair Play, hanno visitato Montevarchi ed i principali musei della cittadina valdarnese. Grande soddisfazione da parte del sindaco Silvia Chiassai per questa tappa montevarchina del premio Fair Play Menarini. Siamo veramente orgogliosi di avere l'opportunità quest'anno per la prima volta di far passare questi importanti sportivi che verranno premiati in questo importante riconoscimento Fair Play Menarini qui a Montevarchi per la prima volta. Il nostro obiettivo era quello di far conoscere la nostra città, il nostro centro storico, questi importanti sportivi hanno visitato i nostri musei e soprattutto per dare un altro contatto diretto tra campioni che non sono soltanto grandi uomini e donne di successo sportivo ma che sono un esempio appunto del Fair Play, del rispetto delle regole, dei valori che oggi più che mai abbiamo bisogno di diffondere. E vedere stamattina tanti giovani, tanti ragazzi, sportive e non, che accoglievano con grande entusiasmo i loro miti, penso sia stato un regalo anche per tutto loro e molto molto gradito. Sì, è una grande soddisfazione poter avere ospitato tutti questi campioni, un grazie particolare all'organizzazione del Fair Play che ci ha permesso di avere questo bagno di folle, avere tutti questi campioni ma più che altro di poter trasmettere un messaggio importantissimo che oltre alla medaglia, oltre all'arrivare primo c'è anche il secondo passaggio, quello che poi è il primo, quello di essere grandi campioni nella vita e nel saper trasmettere i messaggi giusti.